Benvenuti in questo nuovo video di Fortnite, torniamo sul corso alle armi ma siamo su Marte quindi è totalmente un'altra cosa Allora dovete sapere che in questa versione di laser alle spalle Ah ma Steph ma scusami ma la gravità? Eh no la gravità è normale No ma l'hai stilato Feri non ci posso credere No praticamente ogni round di questo gioco è diverso sia di armi che di regole Può capitare il match in cui si will, il match con la gravità sballata, un sacco di cose Bello però, bello, mi piace quando ho Ma se ti ho laserato Marci Eh sì, eh sì Sono varie le cose, cosa? 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 Il cane è morto? Eh? Cosa? Ok Devi spiegarmi meglio Non lo so Allora aiuto Che brutto comportamento che ha Marci oggi Marci non dovrebbe morire Sono l'unica con un'arma che fa schifo Allora Ci sono anch'io Feri Feri però non urlare No io urlo No su Marte Ho i volumi troppo alti non vi sento Quindi mi ho abbassati un minimo In tutto il pianeta Che non urlare Che ne basta Che cavolo Annaggia a Marco Ecco non potevi avere troppa vita Porca miseria T'ho aspettato Allora ragazzi Per favore Marte Non iniziamo ad inquinare anche Marte Ma non la stiamo inquinando La stiamo conquistando Esatto Feri non c'è più E' andata Anche tu nella vita reale Steph E' andata nell'autobluna Dopo sto video Aia 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 Buongiorno Salve a tutti Io faccio il video zitto Eccolo Silenzio del triardino Chi c'è Raga avete tutti i armi da lontano Nel momento Ma cosa Voi siete tutti con le cose lontanissime L'ho ucciso io No vabbè però eh Sì Cane Oh mamma mia Chiedi scusa No Ah Uh Meno male che si rinasce qui Che arma ho Che arma ho L'uomo Dimmi Ma tu ne hai detto che a 399 In edicola trovano una cosa Eh non lo so Ehi Yu Ce l'hai il cubo Ehi Yu Feri si è pensata a sto meme Lo voleva dire da un sacco di tempo Sì Quindi dovete ridere raga Sì Autoblue Non l'avete capito Perché non l'avete capito No io non l'ho sentito Ragazzi Perché si vergognava l'ha detto timido No però No sta burlando E che voi urlavate di più No però Il cane mi trigger Il cane mi trigger Dai raga io so sta pistola Fatevi uccidere Vi prego Non riesco a far chico sta roba È impossibile Io l'ucciso Ho ucciso Marco Solo perché aveva la lancia granate No non è fattibilissimo Fa schifo Porca miseria Fa schifo Possiamo far parlare Fere e la sua meme No ma beh però No non lo dico più Paddino No non sto giocando col paddino Grazie Marci per camperarmi Grazie Eh se sono qua Buongiorno Stef fatti ammazzare Ti prego non ce la faccio più Con sta pistola Non mi puoi mettere Non mi puoi mettere sta pistola In una mappa così Dove siamo tutti distanti Bene siamo tutti a lanciagranate Adesso non rompere Eh appunto No È meglio Tutto è meglio di sta pistola Guarda non fa danno Cioè come ti dovrei uccidere Ecco finalmente Se l'ho presa Però mi l'ho più ucciso Quindi va bene Adesso finalmente La R è un'arma a distanza Porca miseria Va ammattato tutti Non lo so Perché questa cosa qui Della c'è grande Come si è passato Sgravata Per favore Fatevi fare la kiss Sempre l'arma perfetta Contro di me Ma non è vero Sempre così Io sono andato a confere Allora quella Lanciagranate E non ce l'ho io Quindi che vuoi Guarda che matto Aia Aiuta Non riesco a uccidere Ho fatto 105 Occhie Lanciagranate Ha rotto le scatole Ma si può uccidere a piccone Ma chi è preso Si può uccidere a piccone Sì si può No raga Ma me l'ho dovuto vedere prima Però non è giusto Con quella pistola Sarei stata a piccone Vabbè Però Raga basta Con sto lanciagranate È stata fa un casino Ma non è possibile Eh raga cosa devo fare Basta Posso fare la kill mark Un piccone No Assolutamente no Cosa devo fare Non lo posso più usare Allora lanciagranate Non lo uso più se volete Ok Va bene Me ne vado Ciao a tutti Ciao Che schifo Ciao Allora Ok Sì Ma dai Maledetto infame Non è stato tutto ciò raga Sta pascolando Sì può essere Sta andando su un altro pianeta Ah so dov'è Guardalo Non è possibile Quanta vita c'hai Dai no Non rompere Mi mancava niente Per la kill Perché sei sempre in mezzo Un primo Il polo sempre in questo punto Ma che bonita Steffo Raga sto piacendo Cane Ma io non so più giocare È un po' di partite in questo tryharding eh Steffo Steffo comunque veramente scandaloso ragazzi E la prossima cambia tutto eh Finalmente Ma dove sei arrivata? Questa 15 Guarda bravo Bravo Marci Bravo Sei contento di me? Tanto rinasco Maledetto Finalmente Sono morto io No mi ha ucciso Feri Sì Non ci credo Ho lanciato le granate No Marcos si arrabbia Sì No Feri ha fatto uccidere col Barret Perché? No ce lo fai Non mi capisco raga Ma mi stai dicendo Allora No 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 scappo No Vieni qua No mi camperò No dai non è morto col barrette no fare 100 facendo 32 in corpo purtroppo anche dovuto fare due hit a fear maledetto figli una letta avevo io l'arma in vantaggio arrabbiatissima anche su marte mi arrabbia un sacco vieni qua cane no non posso guardare faccia nessuno così si gioca no raga è guarda no ancora due hit sono due hit sono solo due rosso no chi è con la lattina no mi sono incastrata raga uccidentemi che se no prende la kill step dai corso alle armi con le lattine uno è più bravo e perde perché alla latina è giusto bellissimo dall'altra parte stesso round perché si deve armi aspettate si rinizio via o doppio chiedi marci raga così bene siete io sono arrabbiato non c'è più usate perché sta saltava tantissimo io saltavo piano normale no raga ero buggato bella 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 è deciso solo perché a me non è partita la gravità giusta ragazzi ma anche io me lo domando se potrai allora campioncino aver rubato la win ma devi anche ridare io vado un po troppi lanciarazzi a 140 ha vinto ragazzi ma perché ha vinto è andato fare tutti una kill coraggio così andiamo avanti vi prego ragazzi faccio anche io sono ancora con la cera anche lo so che fare raga ok dicono fatti uccidere ma non posso più uccidervi ragazzi vorrei ma non c'ho questo uccidimi veloce 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 non mi partiva il raggio aspetta staff c'è staff no raga non fai non riesco a fare a fare kick con lanciarazzi è possibile ma non è possibile non so cosa dirvi la gente salta troppo sono tutte cavallette mamma mia ragazzi detesta bravo bravo bello bravo grazie grazie almeno io faccio qualcosa infatti almeno lui ha visto regalando chi le basta guarda io e mark si divertono così a scegli divertire ma se ho fatto la kill mark ha me l'ha fatta fare ma no 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 non te l'ha fatto fare fammi fare la kill no fare devo vincere staff esco dalla partita e fare esci immediatamente dai ragazzi ma che schifo di round divertono così aia nome rubato dai me l'ha rubata step unici credo raga ma che state combinando dai una volta che posso essere in vantaggio raga io non ce la posso fa ce la posso fa ce la posso fa ve lo giuro e la vince lui non ho fatto una kill posso dire che il round più triste sì è il più brutto che ci siamo mai visti la prima kill ha fatto a su di me solo perché l'ho baggata e non avevo la gravità cioè fa schifo secondo me ci stava mandorano ma non fare il terzo round per colpa loro che si lamentano non il lanciarazzi come primo dai ti ho lasciato 11 raga a cello gravity che il bing fuori schifosa infame fai molto scritto raga per il mio risultato io prima non avevo la gravità giusto e mi ha ucciso così evito solo per quello quindi stai zitto do meriti mamma mia compagni andando però è che non ce la posso fare a combattere così un po di try yard in combattere con la gravità normale come un gioco normale ma cosa ci sta a me piace un botto lo sai no ma la gravità così no no e come faccio come faccio volando a prendervi guarda mi ha lasciato tipo 5 di vita e porca miseria riserva che ha fatto un combattimento magico con l'atomica ma è dove vi atto mica ne quindi ria vantaggiato schifoso punto perché avevo le spiegi ma fa sempre shield tutto chi mi spiegarà dei due raga che vince lui lo picco io le tecniche qua vabbè ragazzi tutti contro stefano a bimbo calma oggi è direi tutti contro stefano di calmi amo per favore rifai la battuta del cubo dai calmi io colpisco solo stefano adesso no mi è rubato l'angolo che non arrivano a se chi io non ce la faccio più coste armi perché stagione sono pappe che fanno schifo devi star calmi parca miseria ragazzi la quarta pure mamma mia cioè io non ce la faccio più ma raga si può faitare cioè che ci può costruire metà tra il legno che cosa non so neanche che cosa l'arma che fa schifo ma poi esplodere non ti puoi lamentare che sta sulla mappa mi sono passato quindi tu sta non ti è consentito lamentare no dai ma mori e tutto mi tra niente ero entrato del dry arling raga scusatemi spara che stile pesante niente io non gioco più oggi basti can inserizio ragazzi non muore ovvi quell'arma dobbiamo star calmi tutti via no ormai la calma l'abbiamo aperta tanto tempo fa se non fa danno quest'arma il suo motivo se l'hanno levata dal gioco le armi che levano le devono levare anche in creativa cioè non devono esistere una nota è levata e levata l'arma è un'arma è brutta lmg creativa raga il cane zitto sta super certo solo quello sapete fare è la modalità per in ampi questa è sì stupide una volta che non riesce ad andare avanti gnogno gno infatti via con le armi decenti mi ha distrutto no io sono d'accordo con mark e non niente ma sono d'accordo con ma ho capito dove volevo andare a far fare queste armi e quindi siamo d'accordo a fare non devo uccidere e io c'è il cupo blu no talmente arrabbiata che non parlo più che provvedere in casa cosa devo fare no me l'ha attaccata devo andare al mare devi morire è impossibile è impossibile è impossibile quello che mi chiedono basta mi dica in quanto deve durare tre fight no tre colpi di rano io a io boe o solo questo che cosa devo fare aiuto no allora raga troppi esplosivi non ci staccavi più nulla marci capisco più niente ma già ma ho detto ragazzi fermiamo così grazie per aver eliminato questo problema nella mia vita guarda gli amm e ci assisto ci vediamo in una prossima televendita ciao ciao ciao